Vi parlo dal Salone dei 200, popolarmente detto a Firenze Salone dei 200, la più prestigiosa dopo il Salone dei 500, Sala Storica di Palazzo Vecchio, dove il Comune di Firenze ha ospitato la presentazione del libro del professor Simone Fagioli, del quale abbiamo avuto modo di parlare anche in un altro servizio, dal titolo Filosofia retorica e logica argomentativa in Aristotele. Vi ricordo l'editore Già Pichelli, insieme a me c'è l'assessore Maria Federica Giuliani del Comune di Firenze, ovviamente che fra pochi minuti presenterà il libro al pubblico e alla stampa. Poi ovviamente il professore verrà intervistato e la presentazione del libro è introdotta criticamente dalla professoressa Ovelli che ci sta per raggiungere in Palazzo Vecchio e quindi noi anticipiamo di qualche minuto la presentazione ufficiale del libro. Sì, diamo il benvenuto al professor Fagioli qua in questa bellissima sala, appunto il Salone dei Dugento, che è la Casa dei Fiorentini, perché è la sede del nostro bellissimo Consiglio Comunale, dove avvengono tante iniziative e appunto stasera ospitiamo questa presentazione, un libro impegnativo di cui ci racconterà meglio il professore, sicuramente perché parliamo di retorica, di ragionamento, di saper raccontare anche e quindi chi meglio lo può fare in questo Salone che ha visto passare persone illustri in epoche diverse e sicuramente ci accompagnerà in un ragionamento molto profondo e molto approfondito. Presentare questo libro in questo Salone prestigioso credo sia un passaggio importante per un libro, perché insomma ha una dignità, acquisisce da oggi, al di là dei contenuti, al di là di chi l'ha scritto, ma una pubblicazione presentata in questo Salone acquisisce una dignità letteraria di per sé stesso molto importante. Sì, grazie, ringrazio il Comune di Firenze, ringrazio l'assessore dottoressa Giuliani per avermi voluto qui questa sera ospite, sono molto contento, porto anche i saluti della Casa di Tricio e Giappichelli, che insomma è tra le più importanti case di Tricio d'Italia, tra l'altro che è soddisfatta e contenta per questa presentazione, appunto che non poteva essere migliore nella città di Firenze e che sta avendo un enorme successo sia editoriale sia da un punto di vista di critica, perché già dalla pubblicazione ha ricevuto due importanti premi. Uno a poche decine di metri dal Salone dal quale vi stiamo parlando, ovvero nel Salone 500, pochi giorni fa, solo due sabato fa mi pare, ha ottenuto il premio Firenze Europa. Sì, sono veramente contento e ringrazio qui tutta l'associazione Firenze Europa, l'onorevole Cellai, insomma, e tra l'altro è stato premiato anche il dottor Borghini, quindi quella mattina abbiamo condiviso questo premio importante. Ricordo anche il premio è riuscito a settembre, lo Spoleto Festival Art 2022, il premio letteratura, tra l'altro è importante, perché tra i vari giurati c'è anche il dottor Sagnelli che è stato candidato l'anno scorso a premio Nobel per la letteratura, quindi sono giurie importantissime che hanno decretato il successo di questo libro e qui questa sera, voglio dire, abbiamo l'ACME che consiste appunto nella presentazione in questo bellissimo contesto, ne sono veramente onorato. Noi siamo in attesa dell'arrivo della professoressa Ovelli, sta arrivando da Pisa e quindi qualche problema di traffico sicuramente sulla FIPILI lo sta trovando, però al suo arrivo, oltre alla consueta intervista in esclusiva per i nostri telespedatori, registreremo anche integralmente la sua presentazione critica e successivamente l'intervista in esclusiva al professor Simone Fagioli e chi vorrà rivederla integralmente potrà andare sul canale YouTube Fabrizio Borghini. È arrivata in questo momento la dottoressa Tiziano Velli che avrà il compito fra qualche minuto di presentare al pubblico e dal punto di vista critico il libro, un impegno importante perché il libro, come ha già detto nel suo intervento, l'assessore Maria Federica Giuliani è un libro molto consistente dal punto di vista dei contenuti. Ovviamente non vorremmo che qualche telespettatore dicesse, vabbè cambio canale perché questo è un libro che parla di filosofia e forse la cosa non mi riguarda, perché questo libro invece è di grandissima attualità. Perché dottoressa? È di grandissima attualità perché il professor Simone Fagioli ha saputo dare un taglio molto contemporaneo, soprattutto nell'argomentazione e quindi con i suoi riferimenti attualissimi anche di retorica politica ecco che vediamo come un, come diceva l'assessore, un maestro della filosofia come Aristotele del nostro passato possa essere assolutamente collocato nel nostro tempo, nel 2022. A chi consiglierebbe lei dei nostri attuali politici anche a livello internazionale di leggere attentamente questo libro e per quali motivazioni? A chiunque, è una lettura universale. E quali benefici ne potrebbe trarre essendo una di quelle persone che decidono i destini degli altri? Beh, forse, forse, forse si porrebbero alcuni interrogativi, alcuni dubbi, quindi forse qualche riflessione in più, forse. Io però vorrei chiedere anche al professor Fagioli quando lui si è messo alla sua scrivania, penso come tutti gli scrittori, il luogo deputato per scrivere quello, a chi pensava di rivolgersi scrivendo questo libro e facendo le ricerche nel passato per proiettarle nel nostro presente. Il libro, evidentemente, è un libro, è un manuale specialistico, quindi è chiaro che è molto adatto, come tra l'altro ha scritto anche la giuria del premio, della trentonesima edizione del premio Firenze. È un testo importante per l'università del presente, per l'università di oggi, però appunto mi sembrava importante sottolineare quello che diceva dottoresso Velli, cioè il fatto che c'è un lettore universale, cioè in realtà il libro può essere letto, credo anche con molto beneficio dai non specialisti. Quindi è un libro che parla di uno, diciamo, probabilmente di uno dei maggiori filosofi di sempre, della storia di filosofia occidentale, però in qualche modo può suggerirci delle vie, delle modalità per risolvere alcuni problemi della contemporaneità. Quindi questo è il punto fondamentale. Non solo un discorso introspettivo dell'anima, ma proprio un discorso di utilità pratica, ovvero sia trovare metodologie adatte per risolvere molti dei problemi che ci attanagliano oggi, anche perché, e questo l'ho spiegato mai nel libro, per molti versi c'è un parallelismo tra la terra del IV secolo e il mondo di oggi che viviamo. Quindi in qualche maniera il Statole ci suggerisce delle chiavi di lettura e delle soluzioni. Il mio compito è stato quello, appunto, di metterle in luce. Se Aristotele potesse rivivere oggi, come si collocherebbe nella nostra società e quale contributo potrebbe dare alla nostra, in senso mondiale, ecco, non vista nella ristrettezza della nostra penisola? Eh certo, Aristotele naturalmente si metterebbe dalla parte... Suve le mani e i capelli. Sì, suve le mani e i capelli, evidentemente, perché appunto viviamo tutti e tutti... Noi tutti oggi sappiamo quello che stiamo vivendo. Naturalmente farebbe il politico, sono sicuro, insegnerebbe, perché questo faceva, aveva appunto fondato il liceo, dopo che era stato diciamo vice maestro nell'Accademia di Platone che era stato il suo maestro e adesso non diciamo in quale schieramento si sarebbe posto per parcondicio in qualche maniera, però naturalmente avrebbe, secondo me, dato un contributo importante, anche perché è uno dei più grossi cervelli che abbiamo avuto nella storia dell'umanità. Quindi ancora oggi è importante studiare, lo studiano gli americani, lo studiano gli anglosassoni, lo studiano gli francesi, in tutto il mondo viene studiato ancora oggi. E se noi prendiamo la pubblicistica internazionale è citato a livello mondiale non solamente sui libri di filosofia ma nei libri di giurisprudenza, nei libri di economia, nei libri di letteratura. Cioè è uno degli autori più citati al mondo, ci sarà un motivo. E come detto un'apertura di servizio che vorrà seguire la presentazione critica della dottoressa Ovelli e successivamente l'intervista esclusiva per i nostri telesvedatori a professor Simone Fagioli potrà andare sul nostro canale YouTube, il canale YouTube Fabrizio Borghini. Aristotele, ritorna a questo grande filosofo. Riflettevo sulla battuta che qualche giorno fa presentando il suo libro Canti d'amore, un libro di poesie presentato sempre qui a Firenze pochi giorni fa, ha affermato appunto che siamo uomini sulle spalle dei giganti. Eccolo qua il nostro gigante, Aristotele. Siamo davvero sopra le sue spalle. Sono veramente molto contento perché, si diceva prima, appunto non più di due settimane fa sono stato premiato qui vicino, insomma, al Palazzo, alla Sala dei Cinquecento, sempre qui a Palazzo Vecchio. Quindi sono molto contento perché vuol dire che questo libro, che già aveva ricevuto a settembre il premio letteratura Spoleto Festival Art 2022, quest'anno appunto, premio Firenze, diciamo, 39esima edizione, tra l'altro con una, diciamo, con una motivazione molto importante che si ricollega a quello che diceva la dottoressa Velli, cioè il fatto che noi siamo come dei nani sulle spalle dei giganti, no? Ma questo però ci aiuta perché ci aiuta sopra quelle spalle a guardare oltre e a guardare più avanti fondamentalmente. E in effetti io mi sono messo sulle spalle di Aristotele e ho cercato in questo volume, che non devo nascondere, è stato molto complicato scriverlo, elaborarlo, perché è dettagliatissimo, diciamo così, nell'apparato critico, nell'apparato bibliografico, ci sono 1200 note dirette e si arriva forse a 2005 in diretta, insomma, è un libro importante, è un manovale universitario e credo, come appunto diceva la giuria del premio Firenze, è un libro che è importante per l'università del presente. Se lo dicono loro mi fido, anche perché è una giuria di tutti i professori universitari, quindi se hanno giudicato in questa maniera vuol dire che lo pensano davvero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.